Da Venezia, questo 4 novembre, nell'ambito di analoge iniziative promosse dallo Stato Maggiore della Difesa su tutto il territorio nazionale, in occasione delle celebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà aperto al pubblico a Venezia, Campo San Polo, il Palazzo Corner Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza. Anche quest'anno viene aperto alla cittadinanza un complesso architettonico che oggi è sede di una delle caserme del corpo, ma che, in passato, è stata una delle più prestigiose residenze della città lagunare e che, nella sua struttura fondamentale, è stato tramandato pressoché inalterato fino ai nostri giorni. Il Palazzo Corner Mocenigo, acquistato dalla famiglia Corner nel 1460, è stato riedificato fra il 1552 e il 1564 sul progetto dell'architetto Michele San Micheli, riutilizzando parte di edifici preesistenti. Al suo interno, dotato di doppio piano nobile, due piani di mezzanini, quattro vaniscale e un cortile e un doppio affaccio sul campo di San Polo e sull'omonimo rio, la famiglia Patrizia dei Corner di San Polo raccolse nel tempo una straordinaria collezione di opere d'arte da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, da Andrea Mantegna a Pietro da Cortona, la cui cura, verso la fine del secondo decennio del Settecento, fu affidata a Gian Battista Tiepolo, al tempo giovane artista agli albori di una promettente carriera. Dopo la morte di Laura, ultima dei Corner, il palazzo nel corso degli anni venne spogliato dai suoi arredi e le sue opere finirono ad arricchire i più famosi musei d'Europa ed oltreoceano. Sotto la direzione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna, sono stati eseguiti i restauri conservativi degli ambienti artisticamente più prestigiosi del palazzo e valorizzati con il riposizionamento di una serie di riproduzioni fotografiche di opere che la famiglia Corner aveva collocato nell'immobile. Tra queste vi sono numerosi dipinti ed freschi di Giovanni Battista Tiepolo. La caserma, destinata dal 1916 alla regia Guardia di Finanza, è intitolata Piave in memoria della partecipazione del corpo alla Grande Guerra, che vide direttamente coinvolta la città di Venezia, separata dalla linea di combattimenti da meno di 30 chilometri, e più volte bombardata dall'aviazione austro-ungarica che cagionò diverse vittime ed arrecò notevoli danni al patrimonio artistico della città. Presso lo storico palazzo, che dal 2020 è divenuta sezione museale del Museo Storico della Guardia di Finanza, è allestito un memoriale permanente dedicato ai caduti, con un percorso espositivo incentrato sulla partecipazione del corpo agli eventi bellici del 1915-18 e che costituisce un concreto e tangibile riconoscimento ai tanti finanzieri caduti al fronte. I cittadini avranno la possibilità di effettuare una visita gratuita al palazzo con i seguenti turni di apertura al pubblico, dalle 9 alle 11 e dalle ore 15 e termine visita alle ore 16. Si raccomanda l'adozione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 con uso di mascherine chirurgiche e si consiglia di prenotare la propria visita online nell'apposita sezione Prenotazioni del sito internet www.palazzocornermocenigo.it